I lavori che sono in corso di realizzazione a Villa Mare per il rifacimento del lungomare e poi un'altra opera che parte di carattere ambientale, quindi mi riguarda particolarmente visto che sono assessore all'ambiente, che è la manutenzione, la pulizia delle radure. Questo è un altro progetto sempre finanziato dalla Regione Campania per 300 mila euro, quindi per i prossimi cinque anni il Comune di Vibonati sarà oggetto di questa manutenzione nelle nostre due radure che sono una situata in località Santa Lucina, la Pineta di Santa Lucina e un'altra in località Serre che è un bosco molto bello che noi abbiamo, quindi daremo modo anche di lavorare a parecchi giovani e soprattutto andremo a ristabilire una situazione non di degrado ma comunque di abbandono di queste radure per cui saranno ulteriormente curate.